ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi parleremo della rinfrescata che ha dato home mobile alle sue offerte ne andremo a vedere quali novità ci sono e parleremo anche del numero di clienti raggiunti sino a fine marzo dichiarati direttamente da vodafone per conto ovviamente di home mobile che appartiene a vodafone prima di tutto vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto cliccare la campanellina per essere sempre aggiornati sulla pubblicazione dei miei nuovi video sono presente su instagram l'indirizzo mail al numero whatsapp che trovate giù in descrizione attenzione per chi vuole passare ad home mobile o veri mobile e usufruire dei 5 euro di ricarico omaggio tramite il mio invito sono rimasti due soli inviti sia per veri mobile e altri due per mobile quindi gli ultimi due per ognuno dei due operatori virtuali alla data di oggi è il 18 di maggio quindi chi volesse affrettatevi non so chi riuscirà a accaparrarsi questi 5 euro perché poi tutti gli altri non saranno più disponibili anche se inserirete il codice poi alla fine non vi arriveranno i 5 euro ci sono gli ultimi due come dicevo per veri mobile e però mobile quindi fate presto benissimo ma andiamo a vedere un po questa rinfrescata delle offerte ecco qui le offerte nuove che da qualche giorno sono presenti nel listino allora abbiamo quella più interessante 9 euro e 99 200 giga sempre minuti sms limitati ovviamente dai soliti operatori ormai li sappiamo tutti i liad fastweb coppavoce poste mobile alcuni virtuali ma ovviamente non sono inseribili praticamente quelli con kena gli operatori come kena e veri mobile questi sono esclusi perché vanno a finire in un altro tipo di tariffa sempre per ilia degli stessi virtuali soliti abbiamo 5 euro in 99 50 giga e la novità 7 euro e 99 150 giga poi per chi attiva un nuovo numero abbiamo a 6 euro e 99 50 giga 8 euro e 99 150 giga mentre se volete passare da team vodafone wind 3 veri mobile kena e vi dicendo 11 euro e 99 50 giga e 13 euro e 99 150 giga allora per le promozioni questa 9 euro e 99 200 giga e questa invece in basso a sinistra 5 euro e 99 7 euro e 99 abbiamo la attivazione gratuita della sim se lo fate direttamente online e non in un negozio queste sono le novità che abbiamo però mobile e poi non c'è nient'altro adesso parliamo un attimo del numero dei clienti allora ultimamente vodafone ha dichiarato anche il numero oltre che presentare i suoi bilanci ma questo è un discorso che magari affronteremo in un altro video ha dichiarato quanti sono i clienti attivi di o mobile che l'operatore appunto di proprietà di vodafone l'operatore virtuale sono arrivati a 2 milioni e 800 mila clienti diciamo che per essere un operatore virtuale è un bel risultato ovviamente lo costo perché abbiamo ancora una velocità a 30 megabit al secondo al contrario di che la mobile che appartiene a team che ha aumentato a 60 megabit al secondo per le nuove attivazioni non per quelle già attive veri mobile è sempre ferma ai 30 megabit per secondo che poi in realtà sono un po di più sono quasi 40 e altre novità per il momento non ce n'è io vi invito nuovamente a seguirmi su instagram contattarmi direttamente al numero whatsapp o via mail sono sempre a vostra disposizione al prossimo video un abbraccio e un saluto da giuseppe